Con una grande prova, l'Amen Scuola Basket Arezzo centra la Final Four di Coppa Toscana, trofeo Alfredo Piperno. Gli amaranto di coach Millie all'ITC Capitini di Agliana hanno affrontato i locali dell'Endi Asfalti, vincendo nettamente 106 a 70. Nello spareggio di Coppa, l'avversario di turno era sicuramente tra i più probanti, guidati in panchina da coach Mannelli, reduce dalla finale per la promozione in Serie B persa contro il Pino Firenze. Ad un roster già molto competitivo, dove si inserisce lo scorso capocannoniere del girone Emanuele Rossi, Agliana ha inserito anche Riccardo Romano, che nella sua esperienza a Lucca aveva viaggiato ad oltre 16 punti di media partita. Inoltre l'Endi Asfalti aveva alzato il livello dei propri under con gli inserimenti del frate Milani e il ritorno di Kukai. La vittoria finale dunque è particolarmente incoraggiante, non solo perché permette all'Amen Sba di accedere alla Final Four di Coppa Toscana, ma anche in vista dell'inizio del campionato domenica prossima. Castelfiorentino primo quarto, 21 Agliana 26 Sba, Sba in vantaggio anche all'intervallo 60-43. Le distanze sono sempre state piuttosto dilatate, terzo quarto, Ammen Sba 87, Agliana 50. Vittoria finale 106 a 70, Final Four di Coppa Toscana, trofeo Alfredo Piperno dunque centrato dai ragazzi di Vimilli che a questo punto sono davvero carichi per l'inizio della nuova stagione in Serie C Gold.